Il governo Meloni non ha dovuto necessariamente attendere la mezzanotte dell'ultimo giorno di dicembre per sparare i tradizionali fuochi d'artificio. Con il sì della Camera alla conversione in legge del famigerato D.L. Rave, ottenuto il 30 dicembre, e con l'approvazione della discussa legge di bilancio il giorno prima, Georgia e tutto il centrodestra hanno infatti potuto festeggiare con soddisfazione la chiusura dell'anno con 24 ore d'anticipo. Due i provvedimenti, il primo fortemente voluto e il secondo necessario, che hanno dimostrato quanto questo nuovo esecutivo, nonostante le fratture interne palesatesi in questi primi due mesi, sia saldo e concreto. Come d'altronde ha ricordato anche Mattarella nel suo discorso di fine anno, quando ha parlato di chiaro risultato elettorale che ha consentito la veloce nascita del nuovo governo guidato per la prima volta da una donna. Gioia di fine anno alimentata anche dalle ultime dichiarazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che con una nota ha confermato il raggiungimento dei 55 obiettivi previsti per il secondo semestre 2022, necessari per richiedere il pagamento della terza rata del PNRR, pari a circa 21 miliardi di euro, alla Mamma Commissione UE, che tutto osserva e giudica. L'Italia ha fatto il suo dovere, quindi ha obbedito al diktat, ha fatto le riforme. E il nuovo anno può iniziare serenamente, come ci ricorda anche il Kodakons. Secondo le stime dell'Associazione a tutela dei consumatori, infatti, il 2023 potrebbe aprirsi e proseguire con una stangata di circa 2.500 euro per le famiglie italiane, a causa della crisi energetica e delle relative conseguenze sui prezzi al dettaglio. Una spesa in più su cui il nostro Presidente della Repubblica ha stranamente sorvolato quando ha affermato che la Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l'Italia. Non sono mancati gli auguri dei più giovani, le leve delle distopie green che ci imporranno in futuro. Spronati da nonno Sergio, che ha chiuso il suo discorso con una dedica all'attivismo e alla partecipazione delle nuove generazioni. Gli ecoattivisti hanno voluto aprire il nuovo anno con un blitz mattutino fuori al Senato, imbrattando la facciata del palazzo e facendo capire che la transizione verde ci sarà, con le buone o con le cattive, nonostante il carbone nella calza, gli spetti di diritto. Insomma, se il 2022 si è chiuso con i botti, il 2023 non sembra temere il confronto dato il suo inizio scoppiettante. Buon anno a tutti!